Buongiorno agli amici di Ciao Como, eccoci all'interno del nostro appuntamento con lo sport. Oggi lo facciamo in diretta, qui a casa di Montorfano, dove potete vedere ci troviamo in questo momento. Siamo a casa di Jacopo Ceruti, che è tornato da pochissimi giorni dalla Dakar, ci ha aperto le porte di casa e ovviamente lo ringraziamo sentitamente per la sua cortesia. Adesso con lui parleremo, ci vorremmo raccontare da Jacopo le avventure, i bei momenti, quali più difficili, insomma le sensazioni. C'è Elisabetta vicino, che è la fidanzata. Ciao a tutti. Ciao Jacopo, ovviamente allora bentornato, da pochi giorni a casa ti ha accolto la tua fidanzata, che ha seguito tutti i giorni praticamente rigorosamente, giusto? Come tutto l'andamento di questa tua Dakar. Le sensazioni adesso a mente, beh fredda, sì Jacopo dai. Bello, sicuramente un'esperienza pazzesca, insomma dura perché pensavo peggio, ma pensavo anche, per certi versi pensavo anche un'esperienza più tranquilla, invece comunque è molto difficile. E tu ti eri preparato molto bene assolutamente Jacopo. Io mi ero allenato bene. Anche fisicamente mi pare perché era così. fisicamente ero molto allenato, però non avendo una moto proprio come quella da rally per allenarmi, non ho proprio fatto la preparazione che hanno fatto magari i primi piloti. Però mi sono sentito fisicamente molto bene, solo che è una gara che ti logora a livello di ritmi, di orari. Più fisicamente o più psicologicamente secondo Jacopo? Ma se non ci sono problemi, che la moto non ha problemi e quindi si fa troppa fatica. Se tutto più o meno fila liscio è più una fatica fisica. Se inizia ad esserci qualche problema è più una fatica mentale. E comunque io l'ho sentita più mentalmente perché era il primo anno e fisicamente mi sentivo allenato. Quindi l'ho sentita più mentalmente come fatica. Sì, immagino anche perché poi c'erano prove ogni giorno di 300-400 km almeno. Quindi non erano 20-30 km, era una pazzesca. Sì, erano dalle più corte 200 qualcosa. Corte, Jacopo. Quelle corte sono quelle sempre più trabocchetto, diciamo, quindi terreni più difficili, caldo. Sono quelle più da temere, quelle corte. Fino alla più lunga che abbiamo fatto 540. Esatto, 540 km, è vero, esattamente. Che l'abbiamo fatta in Bolivia a 4.000 metri, 3.500. Che cosa si prova? Ecco, le sensazioni. Ho visto tra l'altro alcuni colleghi tuoi hanno avuto anche dei problemi di respirazione, si sono sentiti male. Qualcuno ha dovuto ricorrere all'ossigeno. All'ossigeno, esatto, esatto. Tu non hai avuto problemi? No, perché ho preso qualche medicina, ci sono delle pillole per l'altitudine il primo giorno. Il secondo ho visto che poteva andare comunque bene, senza, quindi ho provato senza e con aiutato da magari medicini omeopatico, li fanno degli infusi di tè che aiutano un po'. Sono riuscito a non aver problemi, non sentire mal di testa, però in ogni caso gli affanno c'è sempre. Immagino, assolutamente sì. Non c'è medicina. Eh, bravo. La moto non ti ha dato problemi. La moto non mi ha dato nessun problema. Alla fine, ecco, alla fine eravamo quasi tutti con noi, con maschi qua a casa, compreso credo Elisabetta, a tifare perché ci avevi preso gusto e eri diventato alla fine veramente al passo dei big, e sei stato veramente strepituoso alla fine. Sì, perché... Non che all'inizio sei andato ad agio, però immagino... All'inizio, a parte l'adattarsi alla moto, poi c'è stata comunque la prima settimana più difficile, più... cioè difficile per me, perché in realtà era più facile, con dei percorsi molto veloci, pericolosi per un certo punto di vista, ma più che altro veloci, con poca navigazione, e lì è difficile fare la differenza e fare poca differenza costa tanto. Quindi ho aspettato un po' la seconda settimana per vedere come sarebbe andata, e quando sono presentati i terreni più tecnici, sabbiosi, con una navigazione un po' più difficile, sono riuscito a aumentare il passo e lì ho visto che potevo puntare più in alto, quindi ci ho un po' provato. Oh, strappitoso comunque questo dodicesimo posto assoluto, no, ti viene da sorridere, se alla vigilia te lo dicevano, tu avresti messo la firma subito... Sicuramente, già avrei messo la firma per finirla. Per chiuderla, certo, certo. E mi sarebbe piaciuto chiuderla nei primi venti, perché pensavo di avere il ritmo per riuscire a entrare nei venti. Dodicesimo è ancora meglio di quanto mi aspettassi. E' chiaro che è finita da pochi giorni la Dakar, quindi è difficile pensare al futuro, ma ci hai già pensato, un pensierino l'hai fatto al prossimo. Sicuramente un pensierino l'ho fatto. Giulano sarebbe, ho detto, non so se l'anno prossimo torno, comunque è dura. Si dice sempre così. Si dice sempre così, ma anche perché la stanchezza è tanta, quindi pensare in positivo per l'anno dopo è dura. Poi invece una volta tornato a casa, mi è subito tornata a voglia di Sudamerica, e quindi per l'anno prossimo penso proprio di tornare. Non so ancora come, con che team, penso con Usquarna, spero. Usquarna tra l'altro ha speso parole importanti, soddisfattissima la tua squadra per te. Tu hai fatto veramente una prestazione super e la squadra è rimasta ovviamente felice e contenta. Quindi ci sono, credo, le premesse perché si possano fare anche il bis nel 2017. Speriamo, quello è quello che mi auguro io. Adesso vediamo, continuerò quest'anno col motorelli, campionato italiano enduro, sempre con Usquarna Italia, sempre nel motoclave intimiano. E poi per i rally internazionali, la Dakar, così avrò qualche mese in più, tempo che le moto tornino, i managersi incontri. Nella decisione più o meno quando viene presa. Per un mesetto o due di sapere cosa... Primavera, già lo saprai sostanzialmente. Sì, primavera sicuramente lo saprò. Senti, che cosa ti resta dentro? Che cosa ti sei portato a casa? Che cosa hai detto Elisabetta quando sei tornato a casa? La prima cosa che hai detto, insomma, sì, ce l'ho fatta, e poi che cosa ti sei portato a casa? Quali le sensazioni, le emozioni? Credo che avete visto dei posti meravigliosi, Jacopo. Sì, soprattutto tanti posti bellissimi, poi mi è piaciuto tanto proprio tutti quelli che mi hanno sostenuto da casa, che ogni tanto riuscivo a vedere Whatsapp o Facebook, così, e vedevo che tantissima gente si era appassionata, e allora è diventato un po' l'obiettivo di tutti, arrivare in fondo. Quello è stato bellissimo, è stata la cosa più emozionante della Dakar, forse. Dedicato a loro? No, in primis alla mia famiglia, alla mia ragazza, e poi sicuramente a tutti quelli che mi hanno aiutato, a Usquarna, a Motocam Intimiano, agli sponsor, c'è tantissime persone da ringraziare, però chiaramente in primis è la famiglia, la ragazza, quelli che sono realmente vicini, che vada bene o che vada male. Eh, assolutamente sì. Levatacce, sicuramente. Eh, come erano i ritmi laggiù? Ma sveglia tra le 3.20 di mattina e le 6, 5.30-6, dipendeva dalla lunghezza della tappa. Eh, sveglia, poi cosa succedeva Jacopo? Subito dopo sveglia? Sveglia, colazione, fatica, si partiva in moto, e lì dipendeva il trasferimento, se si partiva alle 4, la prima moto, vuol dire che il trasferimento iniziale, prima della speciale era molto lungo, quindi un trasferimento finché non fa luce, e poi quando fa luce siamo autorizzati, diciamo, a iniziare la prova speciale, e ognuno ha il suo orario, quindi più o meno quello. Prova speciale, finita, c'è un altro trasferimento che dipende anche da quello, che può essere più o meno lungo o corto, arrivo al bivacco, e poi lì inizia la solita, tutta la routine, doccia, cibo, preparazione rockbook per il giorno dopo, preparazione... Cibo italiano o boliviano? No, cibo del luogo, nel senso che il bivacco allestisce. Cosa c'era di buono? Cosa c'era? Di buonissimo la carne. Speravo anche più cose buone, sinceramente, però io amo la carne, quella era buonissima, quindi almeno una cosa molto positiva. Poi, niente, ritmi così, preparare il rockbook, preparare la giacca, preparare le barrette, tutte le, insomma, la parte energetica per il giorno dopo. Quando eri in moto, c'era talmente tanta concentrazione che potevi alimentarti, oppure, cioè, ecco, spiegaci anche questa cosa. Noi ci alimentavamo, a parte colazione, poi qualcosa prima della partenza della speciale. Poi ci sono delle zone di refueling, quindi delle zone in cui si può fare benzina e veniamo neutralizzati, diciamo, per 15 minuti, che possono essere dopo 200, 250 massimo chilometri dall'inizio prova speciale. E in questi 15 minuti possiamo mangiare quello che vogliamo, le nostre barrette, bere l'acqua, riempire i camelback, quindi le sacche per l'acqua. Sì, non fare un grande pasto frugale, ma sicuramente è una cosa molto... Non fare certo un grande pasto, però si tira avanti fino a fine speciale. Poi, quando si arriva al bivaco, si pranzi immediatamente, cena alle 7, 7 e mezzo, non più tardi, e verso 9, 9 e mezzo, si chiude gli occhi. Esattamente. E riuscivi a chiamare la fidanzata? Sì, la chiamavo, ha un po' fatica, nel senso che in Bolivia col satellitare, poi a casa con... Cioè, a casa in Argentina, col telefono argentino, poi a volte non prendeva, sono problemi normali. E lei, immagino, fosse in grande com'eri, a casa, a vivere questa emozione. Dai, sentiamo anche te un più veloce commento, poi chiudiamo l'incontro di oggi con Jacopo, che ci ha aspettato, ripeto, a casa, e lo ringraziamo della sua squisita cortesia. Com'era questa Dakar a casa, Elisabetta? Abbiamo anche noi fatto la Dakar, in tutti gli effetti, proprio, abbiamo gioito e sofferto insieme a lui. Il nostro, il mio ruolo, principalmente, iniziava la mattina alle 7, quando anche lui cominciava e si svegliava, e finiva quando lui andava a letto. Quindi per noi erano le 4, le 2 di notte. Ah già, è vero, perché... La fanno tutti la Dakar. Esatto, sì, sì, ma credo che, infatti, tu non hai corso in moto, Elisabetta, però... Esatto, però, mentalmente, ero lì. Esatto, e quanto si soffre, adesso, diciamocela tutta. Poi, uno dice, vabbè, sì, però, da casa, migliaia di chilometri di distanza, non nascondiamocelo, è affascinante, ma è anche pericoloso. Assolutamente sì, e tante volte, magari, il GPS, non, magari, faceva un po'... e quindi, non, magari, i suoi risultati non uscivano e è stato veramente dura. Quora in gola, qualche volta? Com'è? Cuore in gola, più volte. Più volte. Più volte. Ovviamente io, più volte al giorno. Più volte al giorno. Fino alla sera, alle nove, poi tutti, perché io trasmettevo la mia angoscia alla mia famiglia, piuttosto che sua mamma, che lo seguiva, era molto agitata. Meno male che io non c'ero. No, infatti, no, sinceramente, e quando sei tornato a casa, che cosa hai detto? Come la prima cosa che hai detto a Jacopo? Finalmente sei tornato a casa. Poi, adesso come adesso, non vedo l'ora del 2017, per l'ora del 2017. Lo lasci partire ancora? Spero di andare anch'io questa volta, almeno. Poi so che è faticosa, però voglio viverla. Adesso voglio far fatica a essere giù, non essere a casa. Che comunque è dura anche per chi segue. No, immagino, adesso lei è stata simpatica nel spiegarci queste cose col sorriso, ma credo che nei giorni scorsi non era così sorridente. anzi, no, no, è stato... Se vuole venire l'anno prossimo sarà ancora più dura, perché lì l'assistenza è stressata almeno quanto i piloti. Non c'è una fatica fisica come i piloti, ma gli orari, tutti i ritmi, è dura per chiunque. Penso dal fotografo all'addetto stampa, al pilota, al guidatore, quello che guida il camion, è difficile. E quando dicono massacrante, Jacopo è massacrante. È massacrante, sì. Perché in generale sì. Anche affascinante, immagino. È anche affascinante e massacrante. Dipende uno come la vive, se ha problemi, se tutto fila liscio, se è allenato, si può rendere a meno massacrante di quanto possa essere diciamo il limite però è massacrante. Bene, un bellissimo incontro quello di oggi con Sport Magazine con il nostro appuntamento con la diretta web. Allora, io saluto e ringrazio questi giovani fidanzati che ci hanno appunto aperto la porta di casa facendo ancora i complimenti a Jacopo, ma anche a Elisabetta perché in effetti il ruolo credo qui in questo caso l'avete spiegato benissimo voi due. L'avete vissuta al 50% questa Dakar Intesa. Il protagonista è stato Jacopo complimenti davvero. Torneremo a riseguirti perché quando deciderai di andare poi magari verremo a illustrare anche qualche tuo allenamento. Ecco, ultima cosa poi ti lasciamo vedo che dietro c'è una bicicletta da corso. C'è una bicicletta che mi alleno. E' quella che hai usato per allenarti Jacopo. Ah, perfetto. Grazie e complimenti ancora a Jacopo Ceruti. Ciao, grazie. Ciao.